17 una rivelazione cerchio k attraverso marco guida il libro dell'apocalisse non è una chiaroveggenza e non è neppure una profezia è una rivelazione ben altro infatti è la chiaroveggenza la quale riguarda un avvenimento la profezia invece riguarda una serie di avvenimenti mentre la rivelazione riguarda necessariamente l'avvenimento per eccellenza più precisamente la rivelazione è un fatto è la luce che viene rivelata lo spirito che si rivela quindi giovanni nel chiamare il proprio libro apocalisse escluse il significato di chiaroveggenza o profezia egli ha indicato la chiave che non è fisica ma metafisica